In questi giorni al Museo Diocesano di Milano è esposto il presepe del Gernetto, che è ormai una celebrità. Si tratta di un presepe di carta, con queste figure in carta cartoncino messe su supporti sagomati del Settecento, che è stato donato generosamente ormai cinque anni fa da Anna Maria Bagatti Valsecchi proprio al Museo Diocesano di Milano. Ed è una rarità assoluta perché proprio per la fragilità di quei supporti, questi presepi così antichi di secoli fa ormai sono scomparsi. Rimane questo, che è un capolavoro e che è esposto in mostra al Museo Diocesano, nella sua interezza completamente restaurato. Chi è l'autore di questo presepe? Francesco Londogno, che è stato uno dei più famosi e dei più importanti pittori milanesi del Settecento. Ebbene, Francesco Londogno è nato proprio 300 anni fa, nel 1723. Ecco allora che questa mostra del Museo Diocesano di Milano è proprio una doppia occasione per festeggiare il Natale, da una parte, ma anche proprio questo anniversario, questo terzo centenario della nascita di Francesco Londogno. La mostra evidenzia, ci fa vedere il presepe di carta del Londogno, ma anche tutta la tradizione presepistica ambrosiana che appunto si è sviluppata attorno a questi presepi domestici piccolini, a volte monumentali, ma caratterizzati dall'essere fatti proprio di carta a cartoncino. E questo grazie alla raccolta Bertarelli, che è un'autentica miniera di stampe, di incisioni, di disegni che si trova al Castello Sforzesco di Milano. Insomma, una mostra interessantissima proprio sulla tradizione del presepe a Milano e in tutta la terra ambrosiana. E per conoscere soprattutto Francesco Londogno, che è stato veramente un grande artista del suo tempo, si era specializzato proprio nelle immagini bucoliche, rurali, la civiltà contadina, ma anche gli animali domestici, le cascine. E questo potremmo dire non tanto per un ripiegarsi in un contesto un po' intimistico, ma soprattutto invece secondo quelle che erano le tendenze sociali dell'epoca dei Lumi del Settecento. Anche se la visione di Francesco Londogno è sempre arcadica, è sempre bucolica, dei veri e propri capolavori. Del resto era un bel tipo questo Francesco Londogno. Tutti i contemporanei lo ricordano proprio come uno bonario, solare, sempre pieno di idee. È ad esempio colui che ha inventato il teatro dei Foghetti, che era uno spettacolo itinerante di immagini. Attraverso le luci, le lanterne e le sagome ha creato un cinema d'animazione antelitteram. Insomma, una bella occasione per conoscerlo, terzo centenario della nascita di Francesco Londogno, ma non dimentichiamo 800 anni dal presepe di Greccio, di San Francesco. Il Francesco d'Assisi, il Francesco di Milano. E così ci facciamo proprio gli auguri per un santo sereno Natale.